Cause della calvizie. Esistono vari motivi per cui i capelli iniziano a cadere. Alcuni problemi richiedono una lunga cura, altri, invece, sono facili da risolvere, sbalzi ormonali. Spesso le donne cominciano ad avere i disturbi tricologici durante la gravidanza, meno pausa oppure nel caso dell'assunzione errata dei contraccettivi orali. La calvizie potrebbe anche segnalare il malfunzionamento del sistema endocrino. Alimentazione sbagliata. A causa della carenza di vitamine e minerali la capigliatura si dirada rapidamente, in quanto i follicoli non ricevono una quantità efficiente di elementi indispensabili per costruire il fusto del pelo in modo efficace. Una parte dei bulbi chi si addormenta, si riduce la durata della longevità del capello. Stress forte e lungo, provoca forti sbalzi ormonali e problemi con la circolazione capillare del sangue. Di seguito si indeboliscono le radici ed i capelli iniziano a cadere. Code e trecce strette, danneggiano i follicoli, rompono il fusto, impediscono l'alimentazione regolare dei capelli durante la giornata. Se si fanno sempre, quella salute della chioma si indebolisce tanto. Malattie del cuoio capelluto, provocano le lesioni e le ulcere che spesso lasciano le cicatrici. In queste zone i nuovi capelli non cresceranno più. Questi sono i problemi principali che bisogna prima risolvere e poi iniziare a rafforzare e nutrire la chioma con le maschere LN. O con gli altri rimedi popolari, altrimenti non si ottiene nessun risultato. Anche se questi metodi comunque riusciranno a rallentare per qualche tempo la calvizia intensiva. Tavia, in questo caso, l'enne è soltanto un rimedio ausiliario. Tipi di enne, sapete che la polvere fine verdastra che ti chiamano enne ha alcune varietà? Il prodotto viene ricavato dalle foglie della stessa pianta cioè la losonia in ermis che cresce nei paesi caldi dell'Asia. In qualche modo la nuanza della tinta che si ottiene dopo l'applicazione dell'enne è dovuta anche alle condizioni climatiche in cui si trova la pianta. Peraniano ha una sfumatura delicata rossiccia dorata, è più diffusa e meno costosa. Turco dona un tono rossiccio rameo marrone profondo ed intenso. Africano è perfetto per coloro a cui piacciono le nuans rossastre, che indiano. Una tinta rossiccia marrone di varia intensità canera si ottiene in modo artificiale in combinazione con un'altra tinta naturale. L'indaco, neutro rappresenta l'estrato ottenuto dalle foglie della pianta dal quale viene rimosso il pigmento colorante. Di solito l'enne si vende sotto la forma di polvere nelle bustine di carta o carta stagnola. Ultimamente molti prodori hanno presentato in commercio questo tinta naturale a forma di pomata in t. È più costosa della polvere però più comoda da usare il, invece di scioglierla nella app per prepararla, bisogna applicarla direttamente sui capelli. Si vendono anche le piccole confezioni del prodotto per la colorazione delle ciglia e sopracciglia. Proprietà benefiche, in realtà non fa differenza a quale tipo di enne usate per effettuare il trattamento. Tutti possiedono delle proprietà curative eccezionali. È importante solamente controllare che sia un prodotto naturale anziché una tinta chimica all'enne. La sua composizione contiene i componenti seguenti, di sostanza i tanni che eliminano la forfora e l'eccesso del sebo, chi restringono. I pori, stimolano la circolazione sottocutanea del sangue, tonificano i capillari polisaccaridi, avvolgono ogni cappello in una. Film finissimo che protegge la chioma dalla disidratazione e la rendono bella lucida. Resine organiche cicatrizzano le lesioni e sigillano le squame di cheratina lasciando il fusto del pelo più liscio e robusto. Oli essenziali hanno un impasto salutare sul cuoio capelluto, fortificano e nutrono le radici, accelerano la crescita dei capelli, gli acidi organici regolano il funzionamento. Dele ghiandole sebacee, eliminano la forfora, favoriscono la chioma voluminosa, e vitamine in particolare del gruppo B-C, passono necessarie per costruire il fusto del pelo solido, accelerano la produzione del collagene. Praticamente opte un'unica pianta contiene tigli elementi indispensabili per la salute e la bellezza dei capelli. Coloro che non vogliono tingerli di rossiccio possono optare per l'enne neutro. Uso dell'enne, tigli rimedi apporteranno difficili se verranno applicati correttamente. È interessante notare che le donne si dividono in due gruppo quelle che sono pro e quelle contro l'enne. Alcune perfino dichiarano che dopo l'applicazione del produdotto i loro capelli sono diventati duri e ribelli, e la calvizie non si è fermata. Vediamo perché questo succede se i capelli possono davvero cadere dopo le maschere all'enne. Come scegliere la ricetta? Esistono tantissime ricette all'enne per ricostituire e rafforzare la capigliatura. Come scegliere quella più adatta proprio al vostro tipo di capelli. I criteri per la scelta non sono difficili, se li avete troppo sei e fini, la maschera deve per forza includere un olio naturale vegetale. Più rovinata è la chioma, più olio dovrà prevedere la ricetta. Per ridurre la quantità del sebo nei capelli grassi si possono usare gli acidi, quali l'aceto di mele, il succo di limone, la polpa di avocado, ecc. Per attivare la circolazione del sangue e nutrire le radici optate per le ricette al miele. Per idratare i capelli servono il soup di aloe o la glicerina. Tutti gli altri ingredienti si possono selezionare a piacere. Come applicare? Si deve anche sapere applicare le maschere all'enne, in quanto in questo caso esse vengono usate per curare anziché semplicemente tingere la chioma. Seguite i consigli degli specialisti, fatevi lo shampoo e tamponate la chioma con l'asciugamano per togliere l'eccesso dell'acqua. Fate sciogliere la polvere dell'enne nell'acqua calda alla temperatura massima di 70 gradi, applicate l'enne ancora tiepido. Sui capelli se si raffredderà, il pigmento colorante non riuscirà a penetrare in profondità e si laverà via presto. Chi il composto deve essere cremoso, se sarà troppo denso, la polvere si serà prima che finisca il processo della colorazione e non risucirete ad ottenere un tono intenso, anche se si preserverà sempre l'effetto curativo. Iniziate ad applicare il composto partendo dalle radici e poi utilizzate un pennello per distribuirlo uniformemente sulla lunghezza. Dopo che finite l'applicazione avvolgetela testa con la pellicola e l'asciugamano sopra, lavate via l'enne con l'acqua corrente appena tiepida, quindi sciacquate con l'acqua fresca. Il tempo di posa può durare fino a due ore però sappiate che le sostanze nefiche dell'enne penetrano i capelli già entro. I primi 15 minuti a seconda del tipo e dello stato dei capelli si possono applicare con una frequenza da una volta ogni 10-14 giorni a due volte alla settimana. Non dovete dimenticare che le proprietà curative dell'enne si riducono al contatto con gli oggetti in metallo. State attente di non usarli durante la terapia. Riccei migliori. Il modo più facile di utilizzare l'enne contro la caduta e per la cura dei capelli e farlo sciogliere nell'acqua calda e farsi una maschera rispettando le regole di cui sopra. Però coloro che vogliono ottenere un effetto extra possono provare a arricchire il composto con gli altri ingredienti per la foltezza. Nell'enne vengono aggiunti i componenti che stimolano la circolazione capillare del sangue. Essi servono per svegliare i bulbi dormienti e favorire la crescita dei nuovi capelli ed accelerare la crescita di quelli già presenti. Potete utilizzare un chiaino di cannella macinata, peperoncino, senape in polvere oppure un chiaio di succo di zenzero. Si possono applicare tali maschere solamente sulla cute non lesa. Per il nutrimento. I capelli indeboliti, sfibrati, rovinati dalle tinte permanenti hanno bisogno del nutrimento supplementare. In questo caso si deve arricchire l'enne con gli oli di pesca, d'oliva, nocciolo di albicoc, lino, ecc. Potete aggiungere anche le fiale delle vitamine A e, per la forza, per fortificare le radici e rifornirle con le vitamine e fitoestrogeni necessari anziché sciogliere la polvere dell'enne nell'acqua. Usate i decoti delle erbe curative quali la camomilla, radice di bardana, tossilagine comune. Per aumentare ancora le fio potete aggiungere anche 5 a 6 gocce dell'olio essenziale di rosmarino, lavanda, ylang ylang, ecc. Per i capelli deboli, l'olio di ricino è estremamente benefico. Esso è capace di penetrare gli strati profondi della cute e avvolgere i capelli nel film protettivo finissimo. Però se ne aggiungete troppe rischiate di appesantire la chioma e privarla dal suo volume. Per una bustina dell'enne e sarà sufficiente un chiaino. Per i capelli grassi, sbattete due albumi d'uovo fino ad ottenere la schiuma, aggiungete un chiaio di argilla cosmetica, unite con l'enne già pronto. È importante controllare che tale maschera non si asciughi completamente, altrimenti farà fatica poi a lavarsi via. Perché un rimedio riveli pienamente le sue proprietà efficaci vi, dovete continuare ad usare la stessa ricetta per almeno un mese. Tavia, se avete sbagliato nello scegliere una maschera, il suo imparo negativo si manifesterà già dopo la prima seduta, in questo caso dovrete sostituire la ricetta. Facciamo il resoconto. Secondo la maggioranza delle recensioni l'uso regolare dell'enne offre veramente degli ottimi risultati. Sappiate che l'enne non è assolutamente compatibile con le tinte all'ammoniaca, quindi bisogna rinunciare completamente ad usarle. E questo pure avrà un effetto molto positivo alla salute della capigliatura. Non siete costreti ad avere i capelli rossicci, in quanto l'enne neutro possiede lo stesso impac curativo. L'enne è un prodotto ipoallergenico e non ha controindicazioni. L'intolleranza personale è possibile però sono in casi rari. Una maschera giusta è in grado non solo di curare la calvizie ma anche di migliorare la salute generale della chioma. Riuscirete ad avere i capelli disciplinati, brillantiti e docili allo styling. Nei forum femminili l'enne viene descritto come un rimedio ideale per una cura casalinga efficace dei capelli.